buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti allora grazie per i nuovi iscritti al canale ragazzi io vi ringrazio per il supporto che mi date ogni volta in live perché ragazzi io sono nato come un canale così a caso però ragazzi non pensavo che arrivarsi in questi obiettivi diciamo del canale 300 eroti diciamo diciamo così 300 e passa ragazzi bel traguardo ragazzi sapete che io non sono uno youtuber ragazzi io sono uno di voi cioè io non mi creo un personaggio non mi creo ragazzi sono quello che sono posso posso esprimermi come voglio in dialetto veneto chi mi capisce chi mi capisce mi capisce ormai me capite tutti me capi tutti me capi tutti a me e ragazzi dai è bello è bello avere una community che ti serve per quello che sei e ragazzi non smetto mai di ringraziarvi anche se anche se io dico sempre condividete condividete la live io a me sì anche luca e gianni solito che gli dico così di venire in live di venire in live però ragazzi ripeto io non ho un argomento ogni volta che mi metto in live non sono come luca e gianni che hanno un obiettivo per fare dirette per comunicare ragazzi a parte che io ragazzi io ho anche due ore di live sono già sono già finito comunque io ragazzi al massimo al massimo a me mi andrebbe bene anche un'oretta di live non ho tre ore non ho tre ore che sono distrutto ragazzi perché parte che la gente nuova che mi ha visto che si è anche iscritta al canale però io dico si iscrive al canale perché ormai mi conoscono o perché mi hanno visto in chat a scrivere nelle live di luca e gianni può darsi perché ormai ragazzi le persone diciamo siamo sempre noi che scriviamo dunque non ci nascondiamo non ci nascondiamo non ci nascondiamo con niente di niente ragazzi però dai io sono contento anche se anche se vi ricordo che non sono uno che vada al calcio mercato a dire le ultime ore ragazzi sono uno youtuber diciamo a caso sono uno youtuber a caso però dai sono contento sono contento almeno almeno a me vi basta ragazzi che mi iscriviate sotto nei commenti ogni video che faccio che mi iscrivete sotto nei commenti e poi ragazzi se capita se capita che sono in diretta che condividete che condividete la live e anche perché mettete mi piace pur pur anche qualche italiano pur anche se non dico niente e ragazzi in live bisogna bisogna parlare bisogna comunicare bisogna essere spicci bisogna essere veloci io ragazzi mi metto in live tanto per fare due chiacchiere ma ragazzi però dai comunque dai adesso sapete che non pretendo niente sapete che l'escrizione è sempre è sempre diciamo è sempre gradevole sempre gradevole il commento è anche un'escrizione però dai però vedo che la gente pur che vada mi segue mi segue anche se e con discreto 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 discreta timidezza perché penseranno oh ma sto qua che che argomento parla non so parla da solo e parla sapete che non ho un argomento fisso comunque ragazzi io vi saluto ringrazio per i nuovi iscritti ragazzi se vi piace questo questo personaggio questo utente di youtube questo utente generico che io non mi crea un personaggio però va bene ragazzi un'iscrizione mi piace un commento l'importante un commento l'importante è che non mi mandate affanculo quello quello può essere inevitabile a gente che vede per la prima volta il mio video va a dire capitato però ragazzi dai ci siamo ci siamo sono contento e dai più usciamo meglio è ciao ragazzi ci sentiamo con un nuovo video con una nuova diretta e buona serata grazie a tutti